ragazzi buongiorno buongiorno benvenuti benvenuti a voi e poi a coloro che ci seguiranno oggi noi riprendiamo e questa nostra chiacchierata sarà poi ripresa e trasmessa appunto sul nostro canale youtube il canale youtube della regione national campus da tutte le quinte della provincia che abbiamo appunto invitato poi a seguirci bentrovati bentrovati voi e bentrovato il nostro ospite che io ringrazio davvero professor paolo pagani per aver accolto il nostro il nostro invito professore di filosofia morale all'università caffoscale di venezia già questo già venezia evoca subito un tono di di bellezza e presidente del centro interno interuniversitario di studi sull'etica partecipa e membro di moltissime commissioni scientifiche nel campo editoriale legato a collana punti editoriali e riviste di filosofia già direttore della cattedra rosminiana e autore di una novantina di saggi appunto legati a temi filosofici di ontologia metafisica logica ed etica devo dire che abbiamo proprio pensato ma vedrete come la sua presenza è legata a un percorso che in qualche modo abbiamo fatto o meglio mi verrebbe da dire che riprendiamo riprendiamo perché voi sapevate facciamo questi incontri con i testimoni del presente che in qualche modo abbiamo dovuto interrompere con oggi ripartiamo perché testimoni del presente in fondo siamo in un momento della nostra storia combattuti per certi aspetti da un lato corriamo 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 c'è una grande frenesia in tutto quello che facciamo dall'altro lato siamo un po come smarriti no cioè in qualche modo corriamo mi verrebbe come da dire senza tante volte sapere dove stiamo andando ecco allora il tema che abbiamo scelto oggi no questo rapporto questo incontro con due grandi maestri rosmini e manzoni beh vuole proprio essere un po come una sorta di bussola no per riorientarci di fronte a due volti di fronte a uno sguardo da guardare con il quale confrontarsi due uomini che nella loro vita in un momento storico certamente non facile siamo proprio nella nell'epoca risorgimentale poco prima dell'unità d'italia hanno vissuto appunto luci e ombre di quel particolare momento ma di certo sono stati protagonisti protagonisti in una tensione mi verrebbe a dirlo in una logica quasi tomista alla ricerca di quel bello di quel vero di quel buono di cui il cuore davvero di ciascuno di noi è fatto per cui il lavoro di oggi diventa quasi una sorta di di confronto no con dei fratelli più grandi che hanno qualcosa da dire a noi oggi poi in modo particolare chiaramente rosmini siamo è una scuola rosminiana per cui tutta la pedagogia e l'educazione rosminiana attraversa il nostro percorso la gradualità del metodo l'organicità dei saperi l'unità dell'essere la conoscenza amativa no sulla quale insistiamo veramente spesso ecco vedrete come si inanellano proprio dentro e questo è il valore aggiunto del lavoro di questa mattina dentro un'amicizia dentro un rapporto umano tra due grandi uomini appunto rosmini e manzoni viene come da dire insomma voi mi conoscete lo dico spesso no siamo proprio nani sulle spalle dei giganti cioè da soli non andiamo da nessuna parte ecco oggi confrontarci direttamente con questi due uomini il loro pensiero la loro vita le loro aspirazioni le aspettative sarà davvero un lavoro io penso proprio molto molto stimolante voglio tra l'altro anche ringraziare don paola per avere reso possibile comunque l'incontro all'incontro di oggi grazie buon lavoro avete un preside eccellente come anche adesso abbiamo avuto modo di apprezzare e spero di essere qualche modo all'altezza di questo invito avrei potuto scegliere di parlare di qualunque argomento magari interessasse i maturandi però alla fine mi son detto ma vado in un posto dove rosmini conta proviamo a vedere un poco il rapporto tra rosmini e manzoni tra questi due amici separati da una quindicina d'anni d'età quindi manzoni già affermato rosmini ancora principiante quando si incontrano a milano e vediamo di cavarne qualcosa naturalmente qui non posso fare la spiega su ciascuno dei due partitamente suppongo che specialmente chi fa la quinta abbia già in qualche modo nozioni un po costrutturate su entrambi quindi mi concentro sui due nel loro rapporto e ho scelto questo argomento anche per un'altra ragione cioè perché sono legato ai luoghi in cui questa amicizia si è creata e si è sviluppata praticamente il lago maggiore milano per certi aspetti anche roma e quindi farò anche qualche riferimento topografico geografico oltre che storico ovviamente vediamo se parlando proprio a braccio perché a un certo punto qui le 70 pagine che io qui le mando dopo a chi avesse voglia di approfondire però adesso io vi parlo proprio così col cuore in mano e senza tante storie anche perché c'è poca luce e faccio un po fatica a leggere gli appunti allora faccio una cronologia per ciascuno dei momenti di questo incontro sottolineerò alcuni aspetti particolari che li hanno caratterizzati dopodiché in un momento di dialogo se a qualcuno di voi interessa che io approfondisca qualcuno di questi aspetti me lo segnali quindi butterò lì come delle delle esche dopo chi la raccoglie me lo dirà allora siamo negli anni 20 del 1800 gli anni della carboneria per il dente citato manzoni aveva avuto anche dei guai doveva essere mandato anche lui allo spilberg insieme al gruppo di silvio pellico maroncelli eccetera per l'intervento di un amico ecclesiastico un amico di famiglia riesce a sfangarla quindi siamo in un periodo in cui diciamo così il fuoco cova sotto la cenere e rosmini e manzoni sono entrambi in qualche modo dei patrioti cioè credono che l'italia debba essere qualcosa di più di una espressione geografica attraverso nicolò tommaseo che era un compagno di studi di rosmini in un stato di padua viene propiziato e anche attraverso il cugino di rosmini carlo un incontro milanese tra i due manzoni riceve rosmini a casa sua a partire dal 1826 quasi per tutte le domeniche e tutte le domeniche dopo che sono andati a messa si trovano a casa di manzoni e parlano di vari argomenti era un'epoca in cui si la conversazione aveva un suo peso anche politico parlano per esempio dell'argomento del giorno venuto meno il regime napoleonico si discute sulle radici la rivoluzione francese che hanno reso possibile quel regime le sue conseguenze e i due non hanno esattamente le stesse idee sull'argomento anche se concordano nel fatto che la rivoluzione francese non è stata quella meraviglia che spesso anche oggi i manuali ci propongono sia stata sono piuttosto critici e critici sulla base di studi storici perché manzoni la rivoluzione francese l'aveva studiata bene dal punto di vista storico e va capito anche che conteneva delle grandi truffe vi butto lì una piccola esca non so se sapete chi siano stati i propositori dell'abolizione del regime feudale nell'agosto del 1789 all'assemblea nazionale sono stati i due più grandi feudatari di francia e questo probabilmente per una ragione che chi legge gli archivi parlamentari ricostruisce rapidamente è stato un affare fantastico dal punto di vista economico e sociale trasformarsi da nobili oppressori a proprietari integrali delle proprie terre arricchiti da una serie di accorgimenti finanziari che i due avevano allestito con l'approvazione degli altri membri dell'assemblea questo per dire che conoscendo questi fenomeni avendoli studiati sapevano che della rivoluzione francese si possono trattenere alcuni punti validi ma deporre altri per esempio rosmini diceva che cosa ci ha lasciato in eredità veramente la dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino in qualche modo contiene degli elementi importanti anche se parla prevalentemente dell'uomo come cittadino e non come padre di famiglia e non come membro di varie associazioni organizzazioni o comunità che vengono ignorate anche dal codice napoleone quindi quindi hanno una visione non come dire a critica né per il sì né per il no quindi non sono neanche quei reazionari che dicono bisogna buttare tutto a mare sono critici come è tipico del loro della loro mentalità se vedete se aprite un libro di rosmini non trovate mai delle dichiarazioni fatte con l'accetta trovate delle analisi puntuali e come dice manzoni che nulla perdonano e nulla hanno da farsi perdonare è proprio il suo carattere preciso di analizzare senza tendenzialmente pregiudizi discernendo con il bisturi ciò che è sano da ciò che è malato nelle teorie degli altri e quindi riproponendo sulla base di ciò che si trova di sano una propria ulteriore proposta di rilancio questo è un primo tema di discussione che non è banale perché era il tema della giornata diciamo così e poi discutono delle cose che ciascuno di due sta scrivendo manzoni aveva scritto il fermo e lucia e si apprestava proprio in quei mesi in cui conosce rosmini a pubblicare la versione cosiddetta ventisettana del 1827 dei promessi sposi che poi avrebbe ricevuto altre edizioni fino a quella quarantana che non è una malattia ma l'edizione del 1840 che poi quella sostanzialmente definitiva e fa leggere le bozze del lavoro a rosmini che era un ragazzo rispetto a lui e rosmini molto umilmente gli fa leggere le cose che aveva composto i primi testi che aveva scritto e dove si trovano a discutere guarda interessante questo manzoni critica rosmini sulla lingua rosmini era allievo del padre cesare il quale diceva bisogna che l'italiano come lingua anche del futuro anche di una futura patria unita perché no sia cavato a calco dal latino di cicerone quindi le costruzioni delle frasi deve essere infatti se leggete le prime cose di rosmini vedete come un cicerone italianizzato che fa un po ridere ai nostri occhi oggi e quindi questa era la critica di manzone rosmini cerca di come dire rendere più consonante il tuo modo di scrivere col modo di sentire anche tuo non solo della gente che poi ti leggerà d'altra parte rosmini fa a manzoni una critica molto raffinata vediamo se riesco a spiegarvela rosmini avrebbe scritto di lì a poco avrebbe pubblicato di lì a poco un testo che già aveva scritto nel cassetto lo teneva nel cassetto che si chiama il saggio sull'iddilio in letteratura e in questo conteneva questo saggio una critica al romanticismo non a tutti i grandi autori romantici ai quali siamo affezionati e manzoni stesso era un romantico alla fin fine per certi aspetti anche se un romantico a modo suo ovviamente e qual era la critica che faceva al romanticismo quella di separare è una critica filosofica è una critica filosofica che poi lui conduce nelle sue opere dedicate all'essere separare il reale dall'ideale il reale cioè quello che vediamo che noi stessi le nostre stesse passioni i nostri sono è una composizione di fatti e i fatti non hanno ragioni dentro di sé sono fatti e basta è una raccolta evenemenziale di roba di roba che è così e basta e più non dimandare e quindi roba insensata il sottinteso del fatto che il reale sia una roba solo di fatti senza senso senza una struttura intima senza una forma sottintende che siano fatti messi lì a caso buttati lì non creati voluti pensati da qualcuno ma allora siccome i fatti ripugnano nella loro grevezza pensate a sartre nausea danno nausea alla fine bisogna inventarsi una realtà ideale che non è quella che viviamo e quindi con la nostra fantasia andiamo ad attingere un mondo come vorremmo che fosse e lì creiamo grandi storie d'amore che nella realtà non esistono creiamo grandi dedizioni all'ideale che nella realtà non si realizzano e via discorrendo quindi viviamo scissi e scriviamo scissi diciamo così come a dire per fare breccia nel cuore del lettore devo inventarmi una realtà che ne io ne lui viviamo e sappiamo che ne io lui vivremo come i romanzi rose la collezione arvoli per dire che indicare i cascami di questa di questa mentalità ma pensate a molti originali televisivi no cuore terra ribelle cuori insanguinati quelle cose appartengono a questo modo di intendere una realtà che ci fa sognare che ci porta lontani da quella effettiva in cui siamo consegnati ecco rosmini non sopporta questa cosa perché non è vera e dice nei promessi sposi ci sono dei punti in cui questa divaricazione avviene per il faccio un esempio nel vecchio nel vecchio ferme lucia nella vecchia formulazione dei promessi sposi don rodrigo ve lo ricordate no che nella edizione invece matura dei promessi sposi muore nell'azzaretto con padre cristoforo che dice può essere castigo può essere misericordia in realtà è tutte e due le cose perché il castigo a volte è proprio una forma di misericordia se è vero castigo e la misericordia non può non prevedere anche un momento di contatto con la realtà no ecco quella quiete come dire realistica eppure non insensata con cui don rodrigo muore e poi renzo stesso arriva a perdonarlo vedendo come si è ridotto e invece nel ferme lucia era sostituita da una morte avventurosa do rodrigo sala al cavallo sul destriero nero con la spuma alla bocca e si schianta contro il muro del lazzaretto nel tentativo di una vana evasione questo è un residuo di romanticismo deteriore dice rosmini infatti secondo alcuni interpreti adesso non sto a elencarli la modificazione che manzoni ha portato al suo testo è dovuta proprio all'intervento dell'amico rosmini che gli girava per casa in quell'epoca quindi i due si in qualche modo aiutano ciascuno nel proprio ambito e ciascuno secondo le proprie competenze aiuta aiuta l'altro ma badate che quella faccenda lì del del romanticismo è importantissima io adesso non ho il tempo di approfondire ma se voi leggete per esempio il saggio di manzoni che poi viene pubblicato col titolo del romanzo storico dove manzoni dice è impossibile il romanzo storico lui che è l'autore del più bel romanzo storico di tutti i tempi probabilmente i promessi sposi teorizza che è impossibile romanzo storico perché teorizza questo perché dice il reale l'ideale lui li chiama in un altro modo ma per intenderci sono come l'acqua e l'olio non si possono mai mescolare uno si sovrappone sull'altro che è esattamente ciò che rosmini contestava no eppure rosmini farà notare in un suo testo che si chiama introduzione alla filosofia in particolare degli studi dell'autore che proprio il più grande antiteorico del romanzo storico è stato l'autore del più bel romanzo storico io dico il più bello perché anche guerre pace no è un bellissimo romanzo storico non so se l'avete letto vi auguro di leggerlo ma è un'altra cosa ha delle pagine fantastiche per tolstoi era uno spirito fiammeggiante mentre invece manzoni era quella che a venezia si chiamerebbe una bronza coerta cioè una una gatta morta il fuoco che cova sotto la cenere aveva una qui era quietamente ardente diciamo così e quindi questo questa come dire calore a lungo rilascio e a lento e lungo rilascio e ciò che caratterizza i promessi sposi rispetto alla narrazione di un guerra e pace io ritengo superiore come intensità ecco l'autore dei più grandi romanzo storico è quello che ha contraddetto la sua teoria la teoria che non è possibile del romanzo storico e ci sono dei punti in cui rosmini nel suo testo appunto degli studi sull'autore dell'autore e contenuto nella sua introduzione alla filosofia dà dei cenni importanti su questo che vorrei solo rapidamente tratteggiare in due battute scavando nel reale troviamo l'ideale se vogliamo essere dei grandi autori dei grandi narratori e pensate per esempio alla grande tradizione del romanzo manzoniana che deriva da manzoni pensate non so fogazzaro riccardo bacchelli se qualcuno di voi vuole bene a se stesso prima di morire legga il bullino del po di riccardo bacchelli richiede un po di impegno 1300 e rotte pagine ma è un romanzo grandioso oppure il ballo rosso di eugenio corti che io presentavo spesso in pubblico quando era ancora in vita e che è un grande romanzo della tradizione manzoniana questi romanzi che cosa hanno in comune sono documentatissimi sugli eventi cioè sul reale su quello che accade effettivamente è accaduto e lo ricostruiscono con minuzia bacchelli addirittura quasi maniacale eppure scavando nel reale trovano l'ideale cioè quello che accade lungi dall'essere insensato se approfondito e non rubricato rapidamente così come si volta la pagina di un giornale quotidiano ma se approfondito davvero fa emergere delle ragioni ci sono delle pagine in questi romanzi che sono di una bellezza abbacinante perché ti fanno vedere che dentro quello che accade c'è sempre un senso se tu lo cerchi c'è sempre un senso se tu c'è una forma una struttura intelligibile una ragione che deve fiorire c'è sempre però la deve avere la pazienza di essere più realista del realista cioè deve avere la pazienza di andare a fondo e intus leggere cioè leggere dentro nella realtà trovandovi l'acqua dell'idealità come il bambino che scava nella sabbia e trova l'acqua che riflette il cielo peraltro ecco questa è la è l'osservazione e guardate che è verissimo questo è verissimo anche nei rapporti umani non soltanto nelle cose che si riproducono in un testo scavando nel reale si trova l'ideale sono le due forme dell'essere no di cui parla sempre rosmini nei suoi testi dal nuovo saggio in avanti che sono in una come dire collocazione tra l'altro asimmetrica perché l'ideale è più gravido di e di essere che non il reale è più forte del di tale che il reale per rosmini e qui si sarebbe interessante approfondire in che senso e perché e capite che questa gravitazione poi si chiama moralità cioè l'adeguazione inesorabile del reale all'ideale cioè il reale è chiamato evocato area ad attuare l'ideale altrimenti perde se stesso non la faccio lunga perché altrimenti parliamo solo di quello non ci fermiamo più e qui siamo solo al 1826 27 ecco tra il 28 e il 47 invece in questa lunga epoca di relazione tra rosmini e manzoni accadono tante cose innanzitutto negli anni 30 rosmini compone la sua opera più nota che non è la più importante e che non è quella a partire dalla quale va letto rosmini ed è il nuovo saggio sull'origine delle idee è un'opera giovanile è un'opera giovanile che poi troverà un suo compimento sia pure incompiuto paradossalmente nella teosofia che è uno dei grandi capolavori dell'ottocento filosofico i due i due i grandi i grandi autori dell'ottocento a mio sommesso avviso sono hegel e rosmini rosmini dopo hegel perché rosmini legge hegel e la teosofia nasce dalla rimeditazione di alcune pagine della scienza della logica di hegel in particolare le primissime le primissime infatti se voi andate nella biblioteca di rosmini trovate la scienza della logica di hegel che per il secondo volume non è neanche aperta per il primo volume è aperta è un po annotata quanto alle primissime e alle prime pagine della logica dell'essere allora rosmini dà da leggere a manzoni una parte i primi due libri del nuovo saggio il manzoni dice bellissimo scritto bene con una dialettica ferrea però 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 ma che diavolo è questa idea dell'essere o questo essere ideale che è quello che si chiede anche lo studente che normalmente si trova tra si voglio dire il bicchiere so che cos'è il tavolo so che cos'è no quelli che poi la tradizione chiama gli enti ma questo essere che non è nessuno degli enti e quindi è davvero un niente è davvero talmente inapprezzabile da essere equiparabile al nulla o non è forse il protagonista di qualche cosa rosmini userà nella teosofia l'espressione positiva per indicare questo qualcosa dirà c'è una differenza ontologica tra l'essere e l'ente alla base della quale o sulla sulla base della quale dobbiamo ripensare tutta la filosofia e fa una polemica contro la filosofia scolastica dice dopo la filosofia scolastica pensava l'ente fondamentalmente non pensava l'essere e anche i primi principi e anche i trascendentali li pensava come generalizzazione dell'ente e non come caratteri propri dell'essere e c'ha delle pagine straordinarie che io non trovo mai commentate tant'è che a un certo punto mi sono rassegnato e ho pubblicato una cosa in cui dicevo rosmini e la differenza ontologica che è stata pubblicata dal giornale di metafisica non senza polemiche previe perché ho messo il dito su una piaga cioè ho detto che ragazzi voi passate una vita a studiare rosmini ma questa roba qui no chiusa la parentesi cos'è questo diavolo di essere manzoni non se ne capacita no è un'idea innata ma cosa vuol dire innato e poi è un'idea a cui non corrisponde un'effettiva adeguata formulazione in parole una formulazione linguistica adeguata ed è un'idea che sfugge proprio alla mia presa della mia esperienza insomma quindi noi abbiamo l'epistolario tra rosmini e manzoni raccolto da giulio bonola e pubblicato nel 1905 e poi tante altre volte anche recentemente che è veramente un delirio di cose belle e in cui poi rosmini risponde e manzoni contro risponde questo 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 dialogo sull'essere secondo me è importantissimo perché io l'ho anche ricostruito in un in un in un articolo poi magari se qualcuno interessa mando un po di roba non so a carlo a paolo chi è per lo e così chi vuole può magari approfondire un po queste questioni ma questa questione dell'essere fondamentale perché perché questa è questa è la questione radicale della filosofia cioè se non c'è l'essere non c'è la filosofia se non c'è l'essere la filosofia non serve a niente perché per organizzare e categorizzare gli enti le scienze positive bastano e avanzano a seconda degli enti no enti psichici enti sociali enti non so naturali vegetali animali minerali le scienze naturali poi la fisica la chimica bastano allora che cos'è questo essere e lì in questa in questa in questo dialogo manzoni arriva ad un certo punto a capire che l'essere come una si esprime ancora così idea anziana cioè arcaica e iniziatrice di tutte le altre cioè un'idea come dire primordiale e questo è ciò che rosmini intende quando dice innata e come dire da qui si generano tutte le altre come per partizione come per articolazione e questo è già un punto interessante dopodiché manzoni capisce una cosa importantissima cioè che l'importante è riconoscere che c'è l'essere dopo il modo in cui possiamo spiegarci come come ce ne formiamo l'idea è secondario quanto il che il come di quel che viene dopo ma l'importante è attestarsi sul che e che cos'è questo che è proprio l'orizzonte dentro il palo si dà tutto le cose noi le conosciamo sempre dentro un orizzonte che le supera e le ricomprende tant'è vero che le possiamo paragonare tra loro no le cose si avvicendano cambiano lo scenario cambia tra un due ore noi non saremo più qui però pur mutando come dire la configurazione degli enti questa configurazione muta e può essere detta cambiata perché c'è qualcosa che permane al di là del mutamento del prima e del poi c'è qualcosa che non è né prima né poi tanto da poter accogliere prima e poi come c'è qualcosa che non è né me né te tanto da poter accogliere me e te e tutto il resto questo qualcosa è l'orizzonte dell'essere essere un orizzonte per cui non puoi trattarlo come un ente tra gli altri togliendo il quale rimane il resto della roba no non è una roba è esattamente come dirà rosmini molto bene nelle sue opere più mature è esattamente la forma io direi meglio l'orizzonte su cui sta aperta la nostra intelligenza e il nostro desiderio anche tant'è vero che a un certo punto rosmini nelle nostre opere mature nella nella teosofia dirà che l'essere che lui chiama lì iniziale e non più innato l'essere è la forma anche delle nostre passioni l'essere è infinito al contrario degli enti che sono sempre finiti le nostre passioni tendono all'infinito tant'è vero che a volte ci mangiano la vita si mangiano le une le altre perché non hanno un orizzonte determinato un focus determinato così come non un focus determinato il desiderio del nostro cuore altrimenti non saremmo così inquieti no di modo che oggi diciamo se io avessi il numero di telefono di quella ragazza se io riuscissi a uscire una sera a cena o a pranzo con quel ragazzo non so se conto della collocazione allora lì se io riuscissi a laurearmi in tre anni se riuscissi a fare l'erasmus e dopo che io ho ottenuto quello se lì subito a vedere ma adesso che cosa facciamo cioè questo è l'essere di rosmini cioè è l'orizzonte su cui siamo aperti che è infinito il tema dell'essere il tema dell'infinito per cui coltivare questo tema è coltivare la nostra vita stessa perché la nostra vita è quella di una finitudine aperta sull'infinitudine siamo instaurati in questa strana relazione e batte che la guerra sull'infinito è la guerra della filosofia del novecento e la guerra della filosofia degli anni duemila è il punto più importante di tutti capire bene che cos'è l'infinito e quali tipi di infinito ci sono ecco l'essere di rosmini è l'infinito più radicale di tutti non è l'infinito della matematica che esso ci consente di costruire non è un infinito potenziale ma neanche un po neanche un transfinito alla canto neanche un po ci consente di costruirli ma non si riduce a essere un essere potenziale matematico non è neanche l'essere di dio l'essere di dio è come dire determinato e non incrementabile non è dio l'essere di rosmini e anche se qualcuno lo accusò di essere ontologista di dire secondo se abbiamo presente l'essere abbiamo presenti direttamente il padre eterno no chiaro che no non è nemmeno però potenziale potenziale è sempre determinato e incrementabile e invece il l'essere di di cui parla rosmini è un essere che potremmo dire lui lo chiama iniziale ma in realtà dovremmo chiamarlo anche trascendentale è indeterminato perché non è nessuna delle cose ma non è incrementabile perché è già ogni abbracciante è già contenente in qualche maniera tutto e noi siamo questa roba qui questa apertura su una assoluta interalità e questo è un po la nostra rovina preziosa rovina diciamo così felice rovina ma è la nostra rovina nel senso che ci colloca in una situazione di squilibrio no siamo fatti per raggiungere una ideale di perfezione che non riusciamo a costruire con le nostre mani siamo fatti per qualcosa che non possiamo darci da noi siamo squilibrati siamo per natura orientati oltre natura o qualcuno ci dona ciò che noi attendiamo o siamo rovinati scusate se faccio un piccolo aggancio perché rosmini era contro le utopie che sono belle più precisamente dovremmo dire per esprimerci con maggiore proprietà era contro l'utopismo l'utopismo è l'illusione che noi riusciamo a essere felici realizzando un nostro progetto ma noi progettiamo sulla base di quello che immaginiamo immaginiamo sulla base di quello che sperimentiamo cioè modificando e immaginiamo sulla base di quello che sperimentiamo e sperimentiamo sempre cose finite perciò se anche riuscissimo a realizzare il progetto più bello sarebbe sempre qualcosa di finito cioè di inadeguato all'apertura del nostro desiderio altro piccolo dettaglio quando rosmini polemizzava sulla carattere innato dell'essere diciamo non mi persuado di questa cosa è chiaro che lì rosmini usava una parola che gli veniva dai giornali dell'epoca dalle riviste filosofiche dell'epoca dalla teoria degli ideologi francesi allora lì come dire innato idea ideologico ideologia erano parole normali nella filosofia di quel tempo e quindi lui come tutti attinge al vocabolario che gli è disponibile quando sull'onda delle critiche di manzoni che dice non è una roba ficcata nella testa con cui noi nasciamo cioè non va inteso così l'innatismo per chiarire che non è quello ma per chiarire piuttosto che l'essere qualcosa rispetto qui non mi posso mettere a distanza per usare un'espressione più contemporanea a noi userà un'altra parola l'essere è iniziale cioè qualche cosa che non ha origine da altro ma è già lì non può essere cavato per astrazione per astrarre vuol dire prendere e lasciar lì qualcosa ma se quel qualcosa è lasciato lì e l'essere tirato fuori vuol dire che l'essere non è davvero onnicomprensivo non può essere frutto di un'astrazione allora lo chiamerà nella teosofia iniziale termine che gli consentirà di abbandonare la parola equivoca diciamo così della dell'innatismo dell'esplosione dell'innatismo che è una parola che vuol dire una cosa giusta ma è una parola che può essere soggetta a fraintendimento come manzone quindi c'è una forte influenza tra manzone rosmini a doppio senso manzoni preme rosmini perché lui purifica il proprio pensiero cosa che farà proprio nell'opera che scriverà qua insieme qualche modo a manzoni che è la teosofia che la scrivono nel periodo in cui si frequentano quasi tutti i giorni ma facciamo un piccolo passo in avanti quando muore la moglie di la prima moglie di manzone enrichetta blondel rosmini per un po di anni si astiene dallo scrivere al all'amico c'è una sorta di pudore tra i due no è un'amicizia come dire non da osteria è un'amicizia un po pudica un po in punta di piedi no quindi uno vuole essere invadente l'altro non ha voglia tanto di parlare questa donna manzoni l'amava tanto ed era insieme a lei che aveva iniziato a convertirsi a cristianesimo sapete che manzoni da ragazzo era ateo aveva in camera il post poster di Robespierre praticamente era cresciuto a pane e rivoluzione francese la sua mamma frequentava i salotti degli ideologhi francesi e non però diciamo così e insieme alla moglie invece con l'aiuto di alcuni della batte d'egola del futuro vescovotosi si avvicina e poi si converte al al cattolicesimo insomma e perdendo lei perde perde molto perde anche un autentico punto di riferimento non solo come dire affettivo i rapporti tra tra i due riprendono dopo qualche dopo qualche anno e riprendono e soprattutto si rinfocolano quando qui la faccio breve perché altrimenti nel 48 scoppia la seconda guerra di indipendenza le cinque giornate di milano entrambi si ritrovano a milano nel marzo del 48 quando scoppia la rivolta contro gli austriaci no e qui manzoni dalla sua casa di via visconti di modrone nel cuore di milano cosa fa mette in pubblica sulla sua ode marzo 1821 e con i soldi che ricava compra materassi e bende per i feriti della rivolta che sono ospitati nella chiesa di sant'ambrogio rosmini da parte sua gasato come non mai in quel momento tira fuori dal cassetto due opere di cui faccio ceno rapidamente che aveva preparato una decina una decina d'anni prima una è la costituzione secondo la giustizia sociale che un'opera preziosissima e l'altra è pubblicata a lugano le cinque piaghe della santa chiesa di cui vi dirò solo una cosa molto molto specifica perché è l'opera più nota di rosmini e questa costituzione secondo la giustizia sociale lui la pensa come una possibile costituzione per un'italia unita che lui pensa nella forma di una confederazione di popoli non di principi confederazione vuol dire ogni stato si aggrega agli altri in una forma di unità sovranazionale che progressivamente arriva a mettere in comune ora questo era quello la moneta poi l'esercito poi le dogane le dogane per ultime però dogane per ultime perché adesso vi spiego il perché rosmini era veramente una persona di grandissima intelligenza poi una corte che curi il rispetto della costituzione una corte costituzionale potremmo dire anche se lui la chiami in un altro modo ed è uno dei primi due teorici della corte costituzionale a livello europeo corte costituzionale che esisteva già negli stati uniti nella forma di corte suprema cos'è qual è l'elemento più prezioso di quest'opera di rosmini l'elemento del realismo cioè lui dice che sostanzialmente bisogna che la giustizia faccia sempre i conti con la prudenza perché l'idealità per tradursi poi in forma reale ha bisogno di alcune mediazioni il caso delle dogane è fantastico pensate un attimo l'unità d'italia come è stata fatta poi di fatto con l'invasione del regno di sardegna nei confronti di tutti gli altri stati della penisola no e cosa è successo è successo che una volta proclamato il regno d'italia nel 61 da un lato nel giro di pochissimo cioè nel 65 tutti i codici da quello civile a quello militare sono diventati da piemontesi italiani e le dogane sono state nel 61 aperte in d'amblè questo ha portato alla rovina per esempio dell'economia meridionale che produceva sostanzialmente grano seta cioè esattamente quello che l'economia del lombardo veneto produceva diecimila volte di più e a prezzi diecimila volte più convenienti quindi ha distrutto le manifatture del sud anche di trasformazione dei prodotti agricoli se invece avesse vinto la logica di rosmini di una progressiva abolizione dei dazi non una immediata probabilmente avremmo un sud italia molto diverso seconda cosa la comune codificazione da un giorno all'altro crea disastri io una volta facevo gli esami per per gli esami abilitanti per i futuri docenti del liceo no e c'era una brava ragazzotta che è venuta lì e diceva bello perché ovviamente l'italia unita ha creato un esercito unito dove il friulano e siciliano con una specie di erasmus mundus tutto bello rose e fiori ma poi dico il servizio militare era tre anni allora tre anni in cui praticamente cosa succedeva che nei paesi del sud siccome non c'erano le anagrafi i carabinieri circondavano i paesi e prendevano tutti gli uomini presumibilmente collocati tra i 18 e i 40 anni li portavano via per tre anni quindi immaginatevi la fioritura dell'economia del luogo e immaginatevi poi la nascita del brigantaggio che non è nata così il brigantaggio non è nato ecco tutto questo per dire che se avessero dato retta un pochino a rosmini ma voi mi direte ma rosmini era un personaggio periferico no politicamente ininfluente no e lo capiamo da questo dopo la sconfitta di custozza 28 aprile luglio del 48 gli austri ci ritornano a milano fanno una serie di ostaggi portano via una serie tra cui il figlio filippo di alessandro manzoni figlio filippo e manzoni si rifugia a lesa rosmini invece nell'agosto di quell'anno viene chiamato dal ministro gabrio casati che governava allora il piemonte va a trovare carlo alberto e viene incaricato di una missione a roma sulla missione a roma si potrebbe stare qui due giorni ma vi accenno solo questo la missione a roma da rosmini viene intesa non più come una semplice diciamo così richiesta di alleanza militare col regno pontifico con lo stato pontificio viene intesa come avente ad oggetto la realizzazione effettiva dell'unità d'italia cioè lui va a trattare per avere una pacifica confederazione del stato pontificio gran ducato di toscana regno di sardegna e in prospettiva regno delle due sicilia stanno per arrivare alla firma di questo trattato che avrebbe generato un ben diverso risorgimento rispetto a quello che abbiamo poi in effetti conosciuto quando cambia il governo in piemonte nasce un governo massonico pinelli perrone rosmini viene di fatto esautorato dalla sua funzione di plenipotenziario in queste trattative lo legge sul giornale non hanno neanche la grazia di informarlo e fallisce tutto quindi non è vero che era un personaggio ininfluente era un personaggio che aveva un grande peso tra l'altro proprio a roma in quel periodo conosce ruggero bonghi che era l'emissario del regno delle due sicilie per questo tipo di trattative che diventerà poi uno dei suoi amici e scudieri più fedeli tra l'altro la roma ma se voi amate roma o amerete roma perché siccome immagino e vedo in qualche modo in voi qualcosa di bello allora io credo che averete roma prima o poi quando andrete spesso a roma dovrete fare andare via nazionale non arriva da piazza eseda via nazionale a un certo punto la quarta destra è via delle quattro fontane in cima via delle quattro fontane dove sono le quattro fontane sulla destra c'è palazzo albani dove rosmini andava ospitato dai suoi amici i conti albani e lì inizia la via del curinale quindi andava a trovare il papa che allora abitava al curinale sapere girando roma di tutte queste vicende di tutte queste cose chi aveva calcato quel selciato è bellissimo perché fare storia vuol dire poi impadronirsi delle città impadronirsi dei luoghi chiusa la parentesi quindi la cosa va male infatti degenera la situazione romana si arriva alla rivolta di cicero acchio poi alla repubblica romana il papa nel frattempo nel novembre di quell'anno scappa a gaeta vuole che rosmini venga con lui e via discorrendo e quando poi tutto tutto degenera anche tra rosmini e la corte papale no a causa del cardinale antonelli che si era messo tra lui e pio nono rosmini se ne ritorna l'emme l'emme con le orecchie basse dove a stresa dove la duchessa bolongaro gli aveva regalato sostanzialmente la villa ducale sul lungolago tutti i grandi palazzi rosminiani di stresa sia il collegio al colle sia la villa ducale sono stati donati dalla granduchessa granduchessa anna maria bolongaro e nel frattempo rosmini alloggiava a lesa nella casa di sua moglie la seconda moglie teresa stampa e rosmini passa da lesa prima di andare a stresa e lì risorge l'antica amicizia siamo nel novembre del 49 piccolo break il lago maggiore ce l'avete presente lesa 10 km più in là stresa in mezzo belgirate era il luogo dove allora villeggiavano manzoni c'è stato due anni dal 48 50 perché a milano era considerato persona non gradita dal governo austriaco restaurato in mezzo belgirate belgirate abitava il professor pietro prini che è stato quello che mi ha spiegato per la prima volta i rapporti rosmini manzoni io andavo a trovarlo proprio belgirate nella sua casetta che sta a metà tra lesa e stresa e i due in quei due anni andavano a trovarsi non dico tutti i giorni ma quasi prima rosmini a lesa e poi manzoni da lesa a stresa a volte a piedi a volte in carrozza ci sono delle scene bellissime narrate da ruggero bonghi in cui rosmini si affaccia dal balconcino della villa ducale proprio da una sala dove mi è capitato di fare tante conferenze per aspettare i sonagli della 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 carrozza che portava il suo amico manzoni ecco in questo periodo manzoni fa e qui devo correre faccio degli accenni scrive una delle sue opere più inter più importanti che il dialogo dell'invenzione in cui compie quello che lui chiama il passo dell'uscio cioè si converte all'idea che c'è l'essere oltre agli enti e lo fa in una maniera sua cioè dialogica mettendo in scena una relazione dialogica tra un primo secondo protagonista anonimi che sarebbero rosmini e lui e un terzo che sarebbe bonghi che assiste registra estenografa gli interventi e questo dialogo io vi auguro di leggerlo è veramente splendido una volta io l'ho fatto portare come testo per la maturità cioè classico da portare la maturità un po insolito come classico perché poi chi doveva esaminare i ragazzi non l'aveva mai letto quindi ha chiesto tutt'altro questo è stato un po una iattura ma dovuta l'ignoranza dell'esaminatore esterno non dovuta ai ragazzi che avevano imparato bene la faccenda è un dialogo bellissimo perché lì il tema dell'essere è introdotto attraverso il tema della creazione poetica dove attingo io quando non descrivo semplicemente le cose ma vado più al fondo di quello che evidenzialmente mi capita sotto mano attingo a una regione dell'essere che non è estrettamente quella reale e però è una regione oggettiva che c'è che non produco io come non produco i triangoli come non produco le rette euclidee dove le attingo quelle robe lì che oggi che hanno un'oggettività perché io ne scopro le caratteristiche non è che le pongo e allora lì si converte all'idea che ci sono più cose in cielo e in terra che non nel reale c'è un orizzonte ideale che abbraccia e supera quello reale e che in realtà annuncia appunto l'essere iniziale e questo è una sorta di conversione che in qualche modo è un atto dovuto è come se manzoni volesse consolare l'amico dicendo guarda che ho capito quello che volevi dire e te lo testimonio nel momento più difficile della tua vita perché rosmini in quel momento era stato messo all'indice le cinque piaghe erano state messe all'indice per un testo rivoluzionario figuratevi che rosmini dice piuttosto che fare un concordato con uno stato che può essere il piemonte può essere l'italia quello che volete voi in cui la chiesa non abbia libertà di esprimersi e di educare di lavorare è meglio nessun concordato alla maniera americana primo emendamento dice nessun establishment religioso cioè libera concorrenza tra le comunità religiose meglio quello nel 48 vi lascio immaginare certi cardinaloni come potevano vedere una roba del genere cioè un attentato a loro status innanzitutto ecco e sempre nel nel 49 da queste da questi dialoghi rosmini manzone da questa frequentazione quasi quotidiana nascono le cosiddette stresiane che un'opera che quasi nessuno conosce stresiane sono chiamate così da ruggero bonghi poi facciamo la pausa non è che vedo sento che siete un po' stresiane un po' cotti perché c'è la curva di Ebbinghaus oramai l'abbiamo sforata ma non importa poi facciamo una prima pausa e dicevo da questi dialoghi nascono le stresiane come sono le stresiane il nome evoca per eco le tusculane disputazione di cicerone cioè quelle conversazioni di tuscolo che erano state registrate dai suoi amici erano quindi dialoghi filosofici i dialoghi delle stresiane che avvengono non a tuscolo ma a stresa hanno come patronisti manzoni rosmini il fratello del del conte di cavur gustavo di cavur e lo stesso bonghi come garzone di bottega perché rosmini lì sulla villa del lungolago ospitava diversa gente specialmente i ragazzi più giovani ragazzi giovani insomma ragazzi sui 20 30 30 sì al massimo e li ospitava dando loro la fruizione della biblioteca tenendoli lì a mangiare con lui e bonghi era uno ospite fisso praticamente era era non era più tornato a napoli sarebbe diventato poi professore di greco non è stato di torino eccetera e bonghi registra e scrive queste stresiane in cui manzoni diventa il vero protagonista e discute manzoni e con rosmini e sul aizzato dalla 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 forza di rosmini ma oramai anche capace di camminare con le proprie gambe discute soprattutto di un tema e cioè necessità e libertà in dio che crea dio è necessario nel senso che non può non esistere ma nel contempo può non creare sì ma questo non genera in lui contingenza un vecchissimo problema della scolastica che poi anche rosmini affronta eccetera e il tema delle stessi anni è questo c'è una chiusa aporetica cioè non è che i due concludono in maniera assolutamente apodittica per dire ecco concludiamo così e non si discute più rimane aperta la questione però è un dialogo che si colloca ad un livello filosofico estremamente alto di cui bonghi non sarebbe stato capace quindi non è lui l'autore del testo è semplicemente colui che ne ha curato la versione letteraria e questo dice che manzoni grazie a rosmini diventa anche filosofo io dico uno dei maggiori filosofi che l'italia ha avuto nell'età moderna e sempre in questo periodo manzoni torna a riscrivere il suo saggio che ha avuto cinque versioni sulla lingua della lingua italiana dove discute di un tema con cui discuteva con rosmini negli anni già 20 dell'ottocento e cioè che lingua avrà un'italia unita e qui c'è una una cosa che nessuno ricorda mai e cioè manzoni dice ci sono due lingue che potrebbero fare la funzione di lingua nazionale una è il milanese questo non viene mai ricordato e l'altra il toscano chiaramente il toscano è una lingua lessicalmente più ricca ha una storia straordinariamente più potente dal punto di vista letterario questo lo sappiamo tutti d'altra parte non è che possiamo parlare come boccaccio oggi dice manzoni dobbiamo adeguarci in qualche modo a un toscano attuale però anche il milanese è completo lessicalmente e non solo ma anche forse più parole per esprimere i termini della tecnica a milano pubblicavano negli anni 60 avrebbero pubblicato il politecnico cattaneo grandissimo personaggio e quindi potrebbero essere entrambe plausibili sono complete e in qualche modo anche sintatticamente come dire adeguate ai criteri di coerenza che sono richiesti ad una sintassi e forse il milanese è un po difficile da da trascrivere perché ha molti dittonghi però è chiaro che poi la sua opzione va sul sul toscano io ricordo che una volta a milano con duemila persone abbiamo assistito a un dibattito tra giovanni testori un personaggio che vi auguro di andare a vedere su youtube se seguite cose di tutto digitate giovanni testori poi mi saprete dire e alberto moravia che invece di cui invece non ho mai avuto alcuna stima è un discreto prosatore ma non ritengo un romanziere degno di questo nome e moravia col consueto scetticismo grattandosi l'orecchio mettendosi le dita nel naso come faceva di solito quando parlava in pubblico poi messi sposi la provvidenza tutte balle a certo momento dice e poi questi questi toscanismi che ogni tanto vengono fuori tipo renzo che dice la c'è la provvidenza testori con calvo a questo punto batte un pugno solito fa la ghela pruidenza le milanese cinque duemila che applaudono la battuta giustissima di testori non era un toscanismo era un milanesismo la ghela pruidenza e per dire che anche il milanese era considerato da da manzoni una lingua ecco naturalmente tutte e due concordano rosmini e sul fatto che debba essere una lingua viva non il calco di una lingua morta e debba essere una lingua capace sostanzialmente di intercettare tutta la semantica anche politica che in quegli anni andava emergendo non posso farla lunga posso solo accennare al fatto che prima di arrivare proprio all'epilogo della vicenda accenno al fatto che proprio negli anni ultimi negli anni 50 sollecitato da rosmini manzoni ripubblica un vecchio testo del 1819 osservazioni sulla morale cattolica il testo era nato per rispondere a delle osservazioni di un di un filosofo politico svizzero ginevrino che si chiamava sismondi il quale sosteneva la vecchia tesi di macchiavelli e cioè che l'italia era sostanzialmente rovinata dalla presenza dello stato della chiesa cioè stato della chiesa era così forte da impedirne l'unificazione e così debole da non saperla realizzare lei o lui e questa era la vecchia tesi di macchiavelli sulle prime decadi titolivio e poi ripesa da giannone poi ripesa da sismondi e criticata da manzoni in quell'opera questo è lo spunto dell'opera ma rosmini dice vai a fondo quello che scrivi nella terza parte di quest'opera terzo capitolo questo terzo capitolo è contiene conteneva una critica alla filosofia dominante in campo morale di quell'epoca degli anni cinque della metà dell'ottocento cioè l'utilitarismo specialmente nella forma di germi bentham utilitarismo benthamiano che era inteso da manzoni come una forma di conseguenzialismo e vorrei dire qualche debattute su questo la critica all'utilitarismo inteso come conseguenzialismo era condivisa dai due autori e manzoni la sviluppa nell'appendice alla terza parte appunto non capitolo mi ero sbagliato delle delle osservazioni sulla morale cattolica che ripubblica nel 1854 in versione rinnovata in omaggio all'amico rosmini qual è il sugo di questa di questa critica è una critica articolatissima io direi che si può buttarlo lì così il sugo è questo il conseguenzialismo che cos'è una teoria morale che dice la bontà morale di un'azione si capisce la si può giudicare sulla base delle conseguenze che questa azione ha cioè se io voglio capire se il mio gesto è buono cattivo moralmente devo fare un calcolo costi benefici di quello che da questo mio gesto consegue e se il saldo algebrico è positivo allora il gesto è buono se il saldo algebrico è negativo il gesto è cattivo esempio bomba atomica su hiroshima c'era ancora in corso la guerra siamo dell'agosto della 45 e l'amministrazione truman negli stati uniti fa questo calcolo se la guerra va avanti così va dura ancora tre mesi faremo 100 mila morti da una parte dall'altra ogni mese 300 mila morti previsti dei nostri diciamo calcoli approssimativi se mandiamo giù la bomba atomica prima da una parte poi dall'altra avremo 150 200 mila morti tra immediati e successivi facciamo 200 mila risparmiamo 100 mila vite umane quindi capite che il documento di produrre 200 mila morti viene comparato al beneficio di risparmiare 300 mila vite 100 mila è il saldo positivo quindi l'azione è buona e l'amministrazione truman butta giù la bomba atomica la prima e poi la seconda e questo è il ragionamento facciamo un'altra possibile applicazione ci sono dieci persone adulte malate una di fegato una di cuore una di polmone eccetera in europa che hanno famiglie figli eccetera in sud america c'è un nigno de rua non so di una favela dimenticatissima che non ha né padre né madre niente lo prendiamo lo rappiamo lo portiamo qua lo facciamo a pezzettini e curiamo dieci adulti che hanno di là non si lamenta nessuno facciamo chiaro sacrificiamo una vita ma ne salviamo dieci più un indotto di altre vite questo estremizzato è però è un ragionamento conseguenzialisticamente diciamo coerente ecco è chiaro che just non abbiamo un problema cioè c'è qualcosa che non funziona qua dentro meno appariscentemente nel caso delle bombe atomiche più appariscentemente nel caso del bambino sacrificato qual è la cosa che non funziona la cosa che non funziona sono parecchie la più importante è questa e sto qualche modo ricostruendo la critica di rosmini e di manzoni rosmini la fa nei suoi nei suoi principi della scienza morale in modo molto velato manzoni la esplicita da par suo nell'appendice al capitolo terzo dell'osservazione sulla morale cattolica le critiche che si possono fare sono ridotte all'osso perché io ne ho contate 13 però ridotte all'osso la prima quella più radicale è l'inconsequenzialismo una dottrina morale che evita la questione morale fondamentale cioè il giudizio su quello che sto facendo che cosa sto facendo questa è la domanda morale fondamentale il giudizio sul contenuto dell'azione aristotele lo chiamava practon tommaso d'aquino lo chiamava obiectum actionis altri autori lo hanno chiamato in altre maniere il quidacti cicerone poi elisabeth anscom in altri modi ancora capite che io devo prima di tutto dire che cosa sto facendo è buono o cattivo quello che io sto facendo poi parlerò delle conseguenze le conseguenze sono delle rilevantissime diciamo forme di diciamo di di contorno e di eca sta direbbe aristotele ma io prima di tutto devo chiedermi se è buono o cattivo quello che sto facendo poi vedo le conseguenze in seconda battuta il primo punto da porre all'ordine del giorno è cosa sto facendo ed è chiaro che se ciò che sto facendo è in contraddizione con il fine per cui lo faccio se quindi uccido per risparmiare vite è chiaro che quell'azione lì non è più un'azione unitaria un'azione che si spezza il suo suo arco intenzionale è rotto non è unitario non è un'azione coerente è una contraddizione dopo vi occuperò delle conseguenze quelle che gli antichi chiamavano le circostanze le conseguenze sono una parte rilevante delle circostanze ma la prima domanda non è sulle circostanze la prima domanda è sul contenuto dell'azione poi sul fine poi sulle circostanze questa è la prima critica ma la seconda critica è molto più manzoniana se vogliamo è molto più raffinata il manzoni era sempre molto fine molto manzoniano la sua procedura se leggete i promessi sposi li avete letti capite che manzoni è molto manzoniano cioè non è mai tranchant coglie sempre le pieghe del discorso per andare poi dentro al midollo delle questioni e dice in fondo quello che io faccio di quello che io faccio sono sicuro ne ho pienamente il controllo delle conseguenze no di quello che faccio io sono sono sicuro e sono sicuramente responsabile delle conseguenze di quello che io faccio sono certo delle conseguenze posso fare solo delle induzioni di probabilistiche che la guerra finisca davvero buttando le bombe atomiche per esempio che quindi si risparmio le 300 mila vittime quindi anche sul calcolo costi benefici che avviene su beni e mali non morali ma fisici anche su quel calcolo lì manzone avrebbe da dire poi addirittura butta lì una provocazione no un uomo che se davvero la bontà di un'azione si giudica dalle sue conseguenze è una provocazione poniamo che una persona dedita bene degli altri fondasse una fondazione per aiutare i poveri in un terreno dove poi cade una frana e tutto viene distrutto eccetera il risultato dell'azione la conseguenza del suo costruire la casa è involontariamente produrre la frana e distruggere tutto e magari anche far determinare la morte di un certo numero di persone allora l'azione era immorale perché la sua conseguenza è cattiva dal punto di vista del costo del calcolo costi benefici ecco è una provocazione ma è una provocazione che però rimane in mente perché le tesi spesso nella loro bontà o non bontà teorica possono essere evidenziate facendo appunto dei paradossi e delle conseguenze e traendone delle conseguenze di tipo estremo nel 55 rosmini sapete viene forse secondo alcune ipotesi addirittura avvelenato e comunque muore muore per una malattia di fegato molto molto potente non so su questo punto se sia stato davvero avvelenato o meno non si sa è stata certamente una morte non prevista che nel giro di poche settimane sostanzialmente lo porta a morire manzoni che non sta bene avvertito da ruggero bonghi arriva a stresa e passa insieme a rosmini gli ultimissimi giorni della vita dell'amico manzoni nel frattempo era diventato a scritto rosminiano quindi era diventato un stato di terziario rosminiano che è un gesto per un uomo pudico come lui quasi scandaloso perché manzoni era molto lontano da queste forme di appartenenza anche visibile perché sai teorizzare delle cose condividere delle idee un conto appartenere è un altro conto manzoni era se lo fa è perché di rosmini aveva una stima formidabile alla persona che stimava di più e lo dice lo scrive e tutti quelli che parlano della loro amicizia dicono concordemente che da un certo momento in poi manzoni ebbe in rosmini il suo migliore amico e la persona di cui aveva maggiore stima d'altra parte rosmini mandava a manzoni rimandava a manzoni i ragazzi che volevano andare avanti negli studi per cui manzoni si ritrovava a dover ricevere o a dover rispondere perché allora più penna d'oca era un bel casino a tutti quelli che gli ponevano istanze poi veniva a scoprire che gli mandava non piccone ma Antonio rosmini è molto bello questo perché vuol dire che c'è un rapporto e passano insieme gli ultimi giorni e finché a certo punto il primo di luglio del 55 rosmini chiude gli occhi non prima di avere proprio consegnato a manzoni le ultime tre parole della sua vita sapete che manzo diceva ma cosa faremo adesso senza di voi gli dava del tu prima prima il voi poi il tu e poi torna a dargli del voi sul letto di morte per una reverenza nei confronti del moribondo e lui dice cosa faremo e rosmini risponde come sapete adorare tacere godere e guanzoni dice l'ultima parola la pronunciò nel senso letterale dell'espressione muore serenamente c'è lì anche vicino lugero bonghi erano molto amici tre adesso ci sono anche una serie di aneddoti che vi risparmio ma rimane lì ancora per un po a fare questa vita di comunità insieme agli altri scritti rosminiani o insieme agli altri confratelli di rosmini e vabbè poi il seguito sarebbe lungo da narrare nel senso che c'è tutta una vicenda anche posto ma che però adesso non c'è il tempo di di raccontare io ho buttato lì alcune indicazioni alcune diciamo offerte alcuni spunti su cui potremo poi magari sulla base delle vostre o curiosità o interrogazioni più approfondite sviluppare giusto per per riavviare le macchine una citazione i tre righe dal manzoni la che sintetizza la polemica anti utilitarista ma in senso positivo e propositivo e quando l'anonimo dello scartafaccio di lavato che sarebbe appunto colui a cui manzoni ironicamente attribuisce il testo dei promessi sposi vuole trovare come dire il sugo della storia dice così l'uomo finché sta in questo mondo è un infermo che si trova su un letto scomodo più o meno e vede intorno a sé altri letti ben rifatti al di fuori almeno piani e a livello e si figura che ci si deve star benone ma se gli riesce di cambiare appena se riesce di cambiare scusate appena si è accomodato nel nuovo comincia pigiando a sentire qui una lisca che lo punge la un bernoccolo che lo preme siamo insomma a un dipresso alla storia di prima e per questo aggiunge l'anonimo si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene e così si finirebbe anche a star meglio bene io direi che con questo come siamo anche in tema possiamo davvero chiudere io ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai dedicato sono state due ore molto molto intense partecipate ragazzo voi davvero per avere seguito con così tanta attenzione ringrazio anche chi poi ci seguirà in youtube perché poi tutto questo diventerà proprio materiale e materiale di lavoro grazie 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 a te grazie a te